E' in corso in queste ore obiettivo tricolore, la staffetta ideata da Alex Zanardi che vede come protagonista l'atleta erpinia paralimpica Lucia Nobis. La manifestazione ha preso il via in mattinata a Benevento e proseguirà nel pomeriggio proprio in Erpinia. L'impresa della Nobis, che ha simbolicamente raccolto il testimone dall'atleta Antonello Pizzi, partirà alle 14.30 dall'arco di Traiano ed arriverà fino a Montella. La ciclista percorrerà circa 80 km in sella la sua bici. La sua tappa attraverserà Vellino a Tripalda, passando per l'area naturale protetta del parco regionale dei Monti Picentini e raggiungere infine il comune Altirpino. Nella cittadina, già a partire dalle 16.30, nello spazio verde di Villa Elena e Celestino De Marco, saranno organizzate una serie di attività ludico-promozionali in bici per i bambini, che avranno come obiettivo quello di impartire nozioni di sicurezza stradale, grazie alla collaborazione del tecnico a FCI Campania Leonardo Muollo e Andrea Bosco dell'Associazione Football Academy Montella. Anche qui sarà presente la Fondazione Michele Scarponi, mentre alle 18 a Villa Elena è previsto l'arrivo della Nobis, che sarà accolto con un corteo di bambini, che accompagnerà Lucia fino a Piazza Bartoli, dove proseguiranno le attività di promozione dello sport e della sicurezza stradale.